24 febbraio, ore 21, Teatro Comunale a Bado di Ferrara, lirica in concerto, una serata benefica di Ado, il ricordo di Lino Talmelli. Lino Talmelli è il papà del frate Raffaele Talmelli, che è stato ospite nostro, alcuni mesi or sono, ed è stato il fondatore della corale di Porotto, amante della musica, una persona veramente squisita, è morto che aveva 85 anni, non parlava più, però parlavano i suoi occhi per lui, io non scorderò mai la sua espressione nel viso quando gli abbiamo detto che facevamo un concerto per lui, per lui è stata la cosa, il regalo più bello che potevamo fargli, e il secondo regalo è martedì sera, che io vorrei ricordare anche altre persone che sono decedute presso la nostra struttura e che ci hanno insegnato molto a vivere, proprio nella sofferenza degli altri, impariamo a vivere noi, tra questi Talmelli e molti molti altri. Parliamo del concerto. Allora, i cantanti, il direttore d'orchestra viene da Firenze, un altro viene dalla Sicilia, vengono tutte da diverse città d'Italia, sono tutti gli amici di Lino e di suo figlio, e vengono tutti gratuitamente per amicizia, per ricordarlo, quindi questa è una cosa veramente molto bella, e assieme a questi cantanti, che sono a livello internazionale, sono cantanti in carriera, ci sono i cori di Ferrara, che si sono messi insieme, che anche questo è un'altra cosa molto bella, c'è il coro della Veneziane, c'è il coro di Porotto, ci sono i cantori del Volto, che assieme cantano con i cantanti ed è veramente, o assieme all'orchestra città di Ferrara, per questo evento. Un repertorio che proporrà brani tipo? Allora, partiamo dalla Casa Ladra di Rossini, poi arriviamo a Puccini con la Tosca, passiamo ancora a Puccini con la Madama Butterfly, passiamo a Nessun Dorma, insomma ci sono i pezzi alla Norma, quindi alla Norma di Bellini, i pezzi più belli della lirica. Ma se qualcuno ancora non conoscesse Lado e soprattutto quello che sta facendo per la città di Ferrara, ricordiamolo in questa intervista. Allora, Lado, sappiamo tutti, assiste malati di inoplasia gravi, questa è la sede che noi abbiamo in via Veneziani e stiamo costruendo una struttura che coinvolge i malati di neurologici gravi, come la SLA, la sclerosimuta e il Parkinson e in questa struttura ci faccio il teatro, perché appunto il teatro è senso di vita, la musica è l'unica parola universale che tutti conoscono e quindi portare i nostri ammalati che sono mentalmente attivi, anche se il loro corpo non è più attivo, vuol dire regalargli qualche giorno di vita. Questo è quello che noi stiamo facendo in via Beethoven, una struttura di 20 posti letto, compreso questo teatro.